musica 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 troviamo un'arma musica 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 Pissolina bianca Venga, pistolina qui La prima volta ha shield La madonna, si ha shield Ci deve vada dietro probabilmente l'alzo Ma è fottitamente possibile Che non ci sono armi Più stradina, gli hai E io vado Questi se ne girano Beh, di shard con il pompo Andiamo alle case Tanto muoio Tempo che vado C'erano i fatti Tanto 3 volte 19 Soltato nell'obbligo Basta Che falle Ma dove l'ho trovata tutta sta roba Non ne ho idea Tutto anno ha sparato con 3 iPhone diverti Travati i colpi per la pistolina Del ferro E un pompo verde Una mitraglietta Sì, però io ho ancora 54 di vita Vieni qua Ti nutro Aspetta Aspetta Prima ne ho fatto 3 volte 19 Adesso 4 volte 16 Zimono 3 Tutto qua sopra Dai, hai rotto la roba di 9 case C'è un 100 di legno Veramente un po' rotto Eh, una shield Buona E turna E cazzo l'ho trovato Non si sa Continuando a luttare il nulla Eccoli qua davanti 36, non cazzo uno Aiuto è qua dietro È qua dietro Ha ucciso il suo amico Che adesso lo puoi usci Perché non esplode No È male Alla faccia Basta materiali Basta cosa Io mi succido Per di ucciderlo Sto qua Ho preso 8 volte Con la mitraglietta 8 vo- ZI Tu prego Madonna 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 ZI Ha uno di vita Ma se gli va bene E poi Questa metraglietta Ho sparato Meno di un terzo Di rap C'è il coso Poi almeno Quello Manco più materiali Questa qua Quanta Cristo Di roba Uno di vita Uno Rompigli un muro Ok Aiuto Prendi miei Prendi miei Prendi miei Si sarà fatto Scommetti Di capol vita Si Presto quanto pastro Di così Proprio Sporchissimi Come ha fatto Nel tralito Il colpo Non si sa Muori Testa di cazzo Poi mi ritrovrei Dare il rodo Come ti Vero Dai da sei Ok Colpi pompa E piccoli Dove ve l'hai battuto All'altro Normale Abbiamo trovato Una persona Ma perché Ricarica Gusta Ha battuto Il soccer skin Di merda Uccida piccolata Dai 10 L'altro Dove è finito Dove è Spaventato Dove è Su la montagna Lo stronzo Mi sparava davanti Cioè Lo so che Sulla montagna Ma mi ha sparato Da davanti Non hai shield Lo sto facendo Tutto Non ho colpito Rimedi Io Non gli entra Un hit Non gli entra Un hit Non gli entra Sto tipo Si deve suicidare Eh Gli ho distrutto La shield Già tre volte Io non l'ho ancora preso Cos'ho combinato Cosa mi significava Quello 34 bianco Io ci mangio Io muoio Un po' di ucciderlo Lo sai E' tanto una jump Ok E' un over glider Questi hanno tanto utili E' fine L'unica cosa che può fare O è squisciarla dietro Solo che tanto sappiamo Da dove L'unica Dai zio Vieni Devo andare a fucking Scire Ma io Muori Che stronzo Andiamo 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 Metti la giunta Muoviti Adiveremo Guarda C'era gente qua Una cosa Guarda Guarda Lì che vola Ancora Ma guarda Salame Scire Cos'è successo Se è tipo esploso Tutto Hai sentito Sei scendini A me serverebbe No Bene Bene Sceglini Prendo io Ehm Sì Sono morto Prendo io Vero Sceglini 37 Così Da Ia Basta 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 Guarda Ogni volta Che la lancia Ci fa A impatto Di 30 Ho fatto 100 trenta porto a porto che arrivano in funzione o c'è un medico che sono incastrato per sotto non si può guidare qua sotto posta di merda dove ero sporgati eccolo uscita uscito in due pazzo pulito ha fatto un suono fantastico si dobbiamo correre troppo 22 secondi per uccidere questo se c'è ma non credo che esista no non esiste era da solo perché mi ha caccato un po' per terra vai su oh no no onzi oh davanti a noi c'è una jump vai certo non jump in merda si che chiesto è che mette una jump così artistico questo uno non è volato lontano e due semplici c'è fondi voglio 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 sì ma che cava c'è un posto dove mettersi dove devo andare io non c'ho niente sto provando a fare di scendiglia un campfire se vuoi è questo sparo attraverso tutto è troppo fresco anche a me guarda lì come come si mette dietro la scala e spara completamente attraverso questo poi ma si vieni qua mi tira tipo di tutto frattempo autogatone per questo sono un figo perchè non mi mette più il campfire non vuoi oh no arrivano qualcuno ha preso il headshot il headshot sta male in parte che ho 600 colpi medi ma vabbè 171 oh no ho preso a 2 ma che hacker ho preso a 2 ma che hacker che cazzo è oh che cazzo è oh è bloccato 1 ah ah si come che cazzo fa ad esserci una tempesta è una tempesta una trappola qua che non c'era un secondo fa poi lui era morto e poi allora c'era vabbè oh no a parte la tempesta moriamo tantissimo eh non so zi lo so ma perchè è tutto così forse questa non è così veloce ti prego esci ti prego ok siamo più veloci però ho capito non esce tanto ci stuprano quelli a destra non dobbiamo farci vedere da quelli a destra ehm ehm sono coglioni tanto loro bigliano a fare lo bigliano a cretivi io sono asciotto ovviamente perché vabbè non è questo che mi sono tutto meglio ehm e let's go le stia avevano campfire cose no io non l'ho potuto usare beh uno si no comunque non aveva cose si è entrato dentro tutto beh adesso in tempesta pure loro però adesso vuol dire che ci arrivano alcuni tu hai link di qualche tipo? ho due cilinni non dirare è inutile z, devi solo correre posso in strafe sto posto almeno mi cazzo sono qua si stai fermo stai fermo stai fermo siamo più voci sono ritardati cronici si proprio il tempo di far diventare e che resta andiamo non lo so però tu prendi dietro dietro a una qualche montagna ci incastriamo qua dietro dentro alla house c'è qualcosa c'è una deagle era esattamente ciò che cercavo oh no c'è un tipo in palla qua dietro no dietro facciamo cistchi di scelta lo scelta per uno ci ha un po' in cartone di stile adesso mi viene arrivato andata dalla finestra esatto e mo c'è siamo abbastanza fottuti allora in là che si fanno il campfire i ricchi adesso capisco cosa si prova ad essere poveri tanto eh da piccolo avevo bob l'ho perso nel bosco bobsco scu non ho voglia no perché abbiamo fatto 8 kill non ne ho voglia di andare a scuola non lo dire non lo dire qualcosa ti prego non è notato non c'è tra 13 secondi parte liberami quindi partiamo noi non si sa mai eh non si sa mai però uccidiamo due tipi di cecchinate droppano medikit grazie gioc gioc troviamo una mappa del tesoro che è tipo qui esatto abbiamo una mappa c kakako sotto proprio davanti ai piedi boom incredibile uno si fa il medico eh si il medico il coso l'altro muore non è il meglio perchè steca c carlo non chiedevo uno di vita a stefano hai visto fatto uno non è che anche questa 50 di vita che non vorrei ok tutto importante adesso non sono i materiali sono i fighetti se mi serve apri sono e li e li e li di trattato sono molto meno da sicuro di te c'è un tipo coccano la zip line ovviamente lo risparmio aspettare molto prima di ciò la palla la prendo io va bene sotto la scala non è che c'è infatti c'è gente dentro zi ma cosa scappa un elikid oddio cosa credo figlio di puttana guarda come se lo fa eh si sono un figlio di trota ma quando quando c'è il pane è da mangiare che hai detto orridi che fai te ne aprivi no che non te ne apri marco di però io adesso non voglio eh lo so dobbiamo tipo andare in safe ci sono le persone in safe non mi piacciono le persone si attento a me si ok io però il loro no ok ho 75 prima di morire ok 75 sono tanti io ne ho 40 e ho 100 di vita perché sono like a boss like a boschetto no e questa partita è bella in ogni caso è bella zilton campfire vieni qua vieni qua veloce arrivo giorgio veloci la vita è la tua dio è la tua perché sono in palla c'è accesso di scena dietro pre sei dal lato sì lo so stai dal lato dove non sei tempesta ma lo prendi comunque sì forse non lo è nemmeno lui eh c'è morto lo prendi comunque così sì no in realtà non meno io sì in qualche modo ci siamo riscattati lo sai sì io ho pure 670 630 e 250 materiali no 400 aspetta che mi faccia fermi questo ok non ho idea di dove siano queste queste tre persone vabbè un team e uno da solo ok non è il delirio non è il delirio il delirio è volato via in questo momento ah oh no ecco io sono qua davanti ci è finato uno 105 aspetta scendi dagli stronzo ok è noccato bravissimo come cazzo hai fatto eh aimbot life è morto l'altro è morto tipo 2 di vita scatto tazzo ucciso in volo come cristo è lì è lì è lì è lì si aimbot life eh zia preso due volte deve uscire è morto è tipo morto di tempesta malissimo sto tipo ecco muori stronzo fuori madonna l'hai trapassato tutti in volo li uccisi si 12 kill easy quanto te stai fatte? 8 io come? bene tu 8 io stai questo è bellissimo metzo come la carestia vince ahahahahah sì Cioè, non ne abbiamo nemmeno dato la possibilità Eh no